Che cosa contiene questo libro? Il libro La lunga storia delle cantiere navali, 120 anni di attività, il numero gigantesco di imbarcazioni scese a mare, fornisce un'infinità di materiale. Naturalmente il libro non vuole esaurire la storia di tutte le navi varate che sono oltre 340, ma solamente di raccogliere alcune schede che spiegano dimensioni, stazza, vita, affondamenti, qualunque cosa sia successo. In questo caso 37 sono le navi che vengono raccontate, si possono incontrare delle stupende navi a vela che hanno scritto la storia della marineria italiana e moderne imbarcazioni che solcano tuttora i mari. Ecco, come ha lavorato? Perché ci sono delle foto storiche e sicuramente una ricerca che ha portato a dover consultare diversi materiali. Ovviamente la tipologia della pubblicazione non lascia molto spazio alla fantasia dell'autore. La ricerca è compiuta a modi contenitori, incrociando tutta una serie di informazioni che sono tratte dalla rete, ma non solo, sono tratte da archivi privati, da scambi tra appassionati, da riviste, da tutto quello che i media offrono. È evidente che tutto questo consente ai rivani, ma non solo ai rivani, ma anche agli appassionati di navi, di ritrovare all'interno di queste pubblicazioni e dalla prossima che seguirà, perché c'è già pronto lo storio di Navi 3, ecco, di trovare tutte le informazioni necessarie senza compiere dei grossi e dispendiosi sforzi. Insomma, un modo per conservare la memoria, che non è solo quella locale, ma anche quella internazionale, perché queste navi hanno solcato i mari di tutto il mondo. Assolutamente sì, nei 120 anni di storia, circa 118 per la precisione, sono stati costruiti, dicevo prima, delle barche a vela che sono il vanto della marineria italiana del tempo, ma degli importanti piroscafi, delle importanti imbarcazioni anche militari, che hanno trovato poi dopo il riscontro sui mercati internazionali.